No, ci mancherebbe. Allora, i minuti sarebbero già scaduti però concedetemi di riprendere un attimo la domanda che cos'è una malattia mieloproliferativa per darvi alcune indicazioni soprattutto anche attraverso alcune immagini che possono poi rimanere meglio impresse nella mente. Allora partivo dall'emopoiesi, come abbiamo già visto, la fabbrica dei globuli, delle cellule del sangue è il midollo osseo dove ci sono le cellule staminali multipotenti che poi attraverso degli stimoli, citochine e altri fattori di crescita aiutano nella differenziazione, prima nella linea, da una parte della linea linfoide che dà origine quindi ai linfociti, sistema immunitario che produce anticorpi, ci difende dall'infezione, la linea mieloide che poi darà origine attraverso vari step, vari passaggi, alle piastrine che intervengono nei processi delle mostesi cioè della coagulazione, i globuli rossi e i granulociti che sono un'altra parte di globuli bianchi anch'essi deputati in parte alla protezione, insomma la difesa dalle infezioni. Ma perché a un certo punto in tutto questo, che cosa succede per cui si origina una patologia mieloproliferativa? A un certo punto intervengono delle mutazioni casuali nel DNA di una persona, che non sono presenti già dalla nascita ma intervengono nel corso della vita e in particolare ci sono tre mutazioni che si chiamano driver perché inducono proprio questa patologia che sono mutazioni di alcuni geni, GEC2, calreticulina e MPL. Come vedete da questa immagine, le tre patologie che abbiamo già citato, di cui parleremo oggi, la trombocitemia essenziale, la policitemia vera e la mielofibrosi, che sono parte appunto delle mieloproliferative croniche Philadelphia negative, hanno una diversa espressione di queste mutazioni. Quindi la policitemia vera la troviamo quasi nel 100% la mutazione del GEC2, nelle altre due più del 50% la mutazione del GEC2 che è quella più frequente, un 30% la calreticulina e l'MPL. Poi ci sono però dei soggetti cosiddetti triplo negativi, cioè in cui non vengono trovate queste mutazioni. Il fatto che non si trovino è perché forse a volte la metodica è troppo poco sensibile, quindi sono poco espresse queste mutazioni, oppure perché abbiamo ancora molto da conoscere, potremmo trovarne in futuro delle altre, ma sappiamo che ci sono anche altre mutazioni che non sono proprio driver. Qua ci sono tutte le mutazioni che noi possiamo trovare in geni correlati a queste patologie, ma che non sono specifiche. Queste mutazioni noi possiamo trovare, a parte il GEC2, come vedete la calreticulina che sono le più frequenti, altre molto meno frequenti che si trovano anche in altre patologie ematologiche, ma addirittura si possono trovare anche in soggetti sani, più aumenta l'età, più aumenta la probabilità di avere queste mutazioni, però servono anche altri fattori, a volte più o meno conosciuti, che possono poi portare al fatto che in presenza di una mutazione si esprima la patologia. Perché se abbiamo questa mutazione, cosa succede se abbiamo una mutazione? Perché poi si origina la malattia mieloproliferativa? In realtà la proliferazione perché a un certo punto, a causa di queste mutazioni, si perde la cellula che normalmente viene controllata e stimolata da alcuni fattori, come l'eritropoietina nel caso dei globuli rossi, la trombopoietina nel caso delle piastrine, i fattori granulocitari, che stimolano la produzione. A un certo punto queste cellule mutate diventano indipendenti da queste stimolazioni, per cui la cellula continua a proliferare, non più regolata da questi stimoli. Un altro aspetto su cui volevo, proprio per essere rapida, su cui volevo soffermarmi, è il ruolo dell'infiammazione nelle malattie mieloproliferative croniche. È un aspetto abbastanza relativamente, diciamo, nuovo, in cui stanno uscendo parecchi lavori che osservano questo fenomeno, per cui si è visto che c'è un'aumentata incidenza di infiammazione in generale in queste patologie, perché si è visto che le cellule GEC2 mutate, quindi le cellule malate, hanno un vantaggio proliferativo in questo ambiente infiammatorio. E a loro volta queste cellule stesse producono delle citochine infiammatorie che si autoalimentano, quindi è una sorta di autoalimentazione. L'infiammazione può anche essere responsabile della sintomatologia, che alcuni pazienti evidenziano, di cui si parlerà, che non tutti però hanno, per cui ci sono diversi gradi di infiammazione. E questo è, ecco, l'infiammazione, diciamo, entra in gioco anche nel favorire quei processi trombotici, di cui avete sentito parlare, che fanno parte di queste patologie, anzi rappresentano anche uno dei rischi maggiori correlati. L'infiammazione, allora, si è visto che questi fenomeni trombotici non dipendono tanto dal numero delle cellule, quindi tante piastrine, più rischio di patologie trombotiche, ma dalle alterazioni intrinseche che queste cellule possono avere, che interagiscono con un endotelio, cioè con le pareti interne dei vasi, che a causa dell'infiammazione sono magari più facilmente, entrano in contatto con queste cellule alterate, aumenta l'adesività, aumenta l'aggregazione delle piastrine e si innescano questi processi. Ultima cosa interessante direi, soprattutto anche per quello che sentiremo dire in questa giornata, è che proprio perché sull'infiammazione forse qualcosa possiamo fare, nel senso che tutti quei fattori che in qualche modo possono peggiorare questo stato, noi abbiamo la possibilità di prevenire, di aiutarci, ovviamente non posso dire curiamo l'infiammazione, curiamo la patologia, sarebbe troppo facile, però se noi riusciamo in qualche modo a intervenire in modo abbastanza semplice su questo fattore, questo aiuterà da un lato a magari controllare meglio e ridurre i sintomi, da un lato comunque a calmirare questo processo di autoalimentazione che avevamo detto, quindi ovviamente astensione dal fumo è una delle prime cose, l'esercizio fisico, le tecniche di rilassamento che ci aiutano, la dieta, ma su questo non mi soffermo perché ne parleremo, quindi anche a maggior ragione tutti i problemi trombotici diciamo che sicuramente aumentano con l'età, ma sull'età purtroppo non possiamo, non abbiamo ancora la capacità di influire, ma la dieta è importante perché ovviamente lo sappiamo benissimo, di questo ne parlano tutti i giornali, sui cibi che dobbiamo evitare per evitare processi aterosclerotici che favoriscono le trombosi e quindi sicuramente su tutto questo noi possiamo in qualche modo avere, aiutare.